Ragazzi, questa sera abbiamo registrato un video sul referendum costituzionale. Per la precisione un dibattito all'americana sulle ragioni per votare sì e le ragioni per votare no, in cui hanno presenziato due ragazzi giovanissimi e preparatissimi sull'argomento. Il video lo trasmetteremo domani sera, cioè venerdì 11 novembre, alle ore 21. Purtroppo non siamo riusciti a trasmetterlo direttamente questa sera sul nostro canale, ma vogliamo comunque trasmetterlo in diretta venerdì sera perché vogliamo darvi la possibilità di trovarvi tutti insieme sul nostro canale YouTube, muovere le idee e commentare in diretta i temi del dibattito. Mi raccomando, non perdetevelo. Non mancate e muovete le idee!